Simone Di Pasquale manca di rispetto a Carolyn Smith, fai il tuo lavoro Simone Di Pasquale, Carolyn, fai il tuo lavoro In ogni puntata di Ballando con le stelle succede qualcosa di interessante che esula dalle esibizioni dei concorrenti che scendono in pista per mostrare alla giuria come sono cresciuti giorno dopo giorno dopo vari allenamenti. Stasera sono scesi in pista Francesco Paolantoni e la sua maestra di ballo e la giuria, salvo Guillermo Mariotto che gli ha dato otto, non ha brillato con i complimenti. Simone Di Pasquale, poco prima della votazione della giuria, ha fatto notare come siate sempre molto delicati. Siete uguali quando dovete mazzolare. Quell'uguali non è andato giù a Carolyn Smith, che poco dopo si è sentita rispondere, sempre dal maestro, fai il tuo lavoro, Carolyn. Carolyn Smith, mancanza di rispetto, ne parliamo dopo. Lo sguardo irato di Carolyn Smith è stato tutto un programma, se non avesse dovuto andare avanti con la votazione per Francesco Paolantoni forse avrebbe risposto per le rime a un Simone Di Pasquale infastidito per chissà quale motivo. Carolyn gli ha semplicemente chiesto se i giurati fossero tutti uguali e se fosse sicuro di questo, specificando che non aveva ancora dato un giudizio. Dopo essere stata invitata in maniera sbrigativa a fare il suo lavoro, Carolyn Smith è rimasta in silenzio per un paio di secondi e poi ha risposto così, mancanza di rispetto, no. Ne parliamo dopo. Nella puntata di stasera c'è stata la caduta della maestro di ballo di Alan Friedman. Ballando con le stelle, Elena Sofia Ricci incanta il pubblico. Come tutti i ballerini per una notte del programma di Millie Carlucci non solo Elena Sofia Ricci ha preso il massimo dal punto di vista delle votazioni, ma è stata accolta positivamente dal pubblico. D'altronde è una delle attrici di fiction più amate, basti pensare ai Cesaroni, che Dio ci aiuti ai casi di Teresa Battaglia, di cui tornerà protagonista la prossima settimana con un nuovo ciclo di puntate. Certo, Millie Carlucci e Paolo Belli hanno provato a convincerla a partecipare il prossimo anno, ma non ci sono riusciti in pieno. La prossima ballerina per una notte sarà Edwige Fene.